ragazzi 322 euro e 64 centesimi da pagare in più sangue di dio infame 322 euro e ne cade la cucina in capo i pariti qua i muri sono fatti a carta pesta lo butta lo sangue squagliato ma mangio sta carta io ma mangio guarda questo vedi che cos'è questa è la figa di mamma sa eccola no e io lo saluto così ciao lupiccione di mamma aspetta 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 fermati fermati senti carissimo no ha parcheggiato la macchina attaccata alla mia non riesco a entrare la devi spostare ok ti ringrazio veicolo troppo tanneggiato ma che cazzo mi dici come veicolo troppo tanneggiato ragazzi secondo me è stato quel bastardo di meccanico di un biscottino plasmut e merda ma spaccata la macchina così chiamo che esce lo chiamo e lo devo pagare capito il plasmon è stato sicuro voglio comprare un po di sushi si voglio un po di hamaki con la fila d'elfa cazzo salmone il tonno qualcosa di misto quanto viene quanto no 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 vado a prendere l'hamburger lascia sarà facciamo 2000 testa 24 6 6 rosso non dirmi mai più stai zitto ma scusa grazie grazie ma è prossima quanta sfortuna ciò ma quanto c'è la ids c'è tutto ecco l'altra c'è qualcun altro un'altra ancora grazie mille bello scusami se hai finito i soldi per colpa mia no 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 mi distogio mi distogio mi distogio io adesso vado a tenere premuto quando io vado quando io comunque rilascio spazio che comunque se faccio così guardi no la moto parte no che hai scoppiato la moto ah no grazie mille bello mio eh grazie 10 euro la faccia del cazzo tutti quanti spam di cuoricini e taggate patricia patricia è una streamer tedesca che ho conosciuto oggi con il verificato zitti 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 che ha giocchiappato ragazzi tutti quanti cuoricini patricia cuoricini patricia allo patricia vi chiesti attan che si è scendato da bis di che stia non ho capito patricia tutti quanti patricia patricia manina alto corri 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 questa mi scoppia il cuore raga porca demonio bastarda gli occhi tuoi brillano di zolfo sono ammalato di HIV ok quindi capitano possiamo parlare in privato io e lei eh possiamo parlare anche qua no 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 voglio parlare in privato porca possiamo andare in privato per cortesia prelevo leva aiuto ma che cazzo è chi mi spara ma che cazzo è ma che cazzo è che non ha freddo dal cuore nel letto io mando io ma tremo davanti al tuo spiede ti odio e ti amo prendi quel piede tutto docciato e mettimlo in bocca che te lo succo me lo vuoi sussare poco poco bello mio stai attento con chi parli eh te lo dico io c'ho l'HIV ti infetto tutto lo sushi ciao in voltino primavera arrivederci tu non saperi con chi parlare senti è bello mio io te zicco ti faccio a filetto ha capito salve tu vuoi lo sushi lo faccio io lo sushi porca miseria ma quanto è pesante sta porta no 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 qua è denuncia appena siamo entrati in centrale si si se cade per le scale non è colpa mia tu vuoi fare soldi tu vuoi comandare tutti quei pezzi di merda che stanno lì sotto eh tutti a bacchetta devono mettere davide ma non a bacchetta a bacchetta noi ci facciamo i cazzi nostri nel momento in cui rompono i coglioni a noi un piede schiaccia la mano davide questi devono lavorare tutti per noi noi devono stare qui e contare i sordi non devono fare nient'altro e contare i sordi ci avremo una vita spericolata ci saranno guerre ci saranno sparatorie oh ricordati quello che stai dicendo ricordati queste parole però eh cazzo è porco demonio non riesci neanche a farne avverare una cazzo ti uso come giacca mamma mia sei del capo te zico te spuno cazzo dammi una vespa e ti porto in vacanza ma quanto è bello andare in giro con gli ali sotto i piedi sei una vespa spezza che ti toglie i problemi ma quanto è bello andare in giro ma quanto è bello